buongiorno oggi vi presentiamo un altro indicatore free si chiama inversione stretta e sono queste frecce che vedete sul grafico è un incrocio di più medie generate in maniera un po particolare che danno la possibilità di scendere o salire velocemente in un'inversione queste semplicemente piccole inversioni vediamo i parametri come vedete non ci sono parametri perché sono semplicemente delle incroci delle medie predefinite che abbiamo fatto ci sono la possibilità di mettere la freccia a quanta distanza di punti che mette la freccia la grandezza della freccia e la possibilità di mettere gli alla nulla di più va bene su qualunque time frame però è molto più semplice andare sui tempi più grandi e quindi m30 h1 c'è problema se andiamo su m1 diventa un po difficile perché questo dice semplicemente vedete potete scendere mettete l'entrata qui e probabilmente l'entrata non viene presa questa viene entrata l'entrata viene messa qui pochi punti è un'inversione stretta molto molto rapida le discese e le salite vedete poi magari potrete anche prendere di più però voi dovete pensare che questa è una cosa molto veloce sotto mettete l'entrata non è entrato tornato su benissimo finita qui se non è entrato è entrato qui è andato fino a qui basta il fatto che si chiama in versione stretta è un problema abbastanza quando c'è il range sali e scendi sali scendi quindi dovete chiudere velocemente l'operazione se invece ci va bene e siamo riusciamo a partire ad un trend potete anche fare un pochino che ricordo sempre di andare sui nostri youtube canali youtube e telegram e iscriviti grazie